Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blil87 e siamo tornati sulla PorcoMundoCraft 2.0 Allora, oggi ho intenzione di andare in miniera, o meglio di costruire la mia miniera Ho in mente un progettino niente male, però per fare questo ho bisogno della mappa che non mi sono preso E spero di essermi portato appresso Perfetto, non ci siamo portati una mappa, siamo molto furbi e intelligenti La mia idea era quella di scavare un buco verso il basso fino al livello dove di solito si trovano i diamanti E da lì far partire una bella miniera grande Però per fare tutto questo, come dicevo, avrei bisogno di farmi una mappa Perché se no, come faccio a vedere il livello dove sono i diamanti? Intanto cipiamo il carbone che ci serve Mi sono portato appresso una crafting table e un forno Così che se trovo del ferro o del materiale che comunque devo cuocere Posso farlo tranquillamente Anche perché il mio piccone non durerà all'infinito Qua devo allargare di un altro spazio Perché la miniera verrà larga 9 Che è un maiale, mi sono cacato sotto Da questo lato ci sarà il mega tuffone Che sarà poi, spero, finirà in acqua e non in altre parti E da là ci sarà la scala che mi permetterà di risalire Però forse è meglio se allargo di un altro spazio Però questo lo vediamo in futuro Sarà una lunga notte di scavi Spero che questi scavi portino qualcosa di interessante Perché ho bisogno di un po' di materiali Sono proprio scarso, scarso, scarso A livello di materiali soprattutto mi servirebbe del ferro E infatti troviamo il ferro Mi servono almeno tre pezzi di ferro per farmi un piccone E altri tre pezzi di ferro per farmi un secchio Così che posso raccogliere l'acqua E costruire la mia prima piantagione di patate Ok, con questo carbone mi vado a fare delle torce E si vola 63 torce, non buttare il carbone coglione E continuiamo i nostri scavi Che momentaneamente ci hanno portato a scendere un bel po' Però penso che ancora dobbiamo scendere Riuscire a trovare anche la redstone non sarebbe male Così da potermi costruire una mappa E poter vedere fino a che livello scendere Allora, fino a mo' è andato abbastanza male Quindi direi di fare una piccola galleria Che poi tapperò Giusto per raccogliere qualche materiale E già ho trovato un bel po' di ferro e di carbone Ecco qua E' finito il piccone Dobbiamo tornare indietro e farcene uno di ferro Ho fatto male a non mettere a cuocere tutto prima Ho scordato la fornace sopra Ero convinto di avermela presa Invece no Qui devo risalire E che palle Vi affa tutto sto colonna Mo' vai di nuovo a casa Prendi di nuovo tutto E si ricomincia Non è piacevolissimo spaccare i ciottoli a mano Proprio manco un po' E intanto mettere a cuocere qua Parte del ferro E mi terrai giusto i miei tre Per fare il mio piccone nuovo Adesso torniamo in miniera Ritappiamo l'ingresso Così evitiamo spiacevoli sorprese Dai che per dopo domani siamo sotto Dai Ok mi sono portato anche un po' di legno Per farmi un'altra chest Facciamo qua momentaneamente una sorta di casa base Ma qua c'è ancora tanto da scavare E tanto lavoro da fare Sento la mancanza di un piccone di diamante In maniera esagerata Intanto non so se avete notato Ho cambiato un po' di cose nel canale Tra cui la descrizione E in più ho messo un numero di iscritti Diciamo invisibile Ho riscontrato E se ho rotto il piccone Un deciso calo Nelle visualizzazioni Quindi ho pensato di Mettere invisibile Il canale Così che qualcuno magari si pensi È un canale nuovo Ed è più curioso di andarlo a vedere Perché vedendo un canale con 4.000 iscritti Con poche visualizzazioni Uno si fa due domande Che poi sono più di 4.000 iscritti Però me lo tengo per me Perché comunque come sapete Io lavoro YouTube per me è un passatempo Non è il mio lavoro Però ci perdo un po' di tempo E vorrei che il tempo che investo nel canale Sia ricompensato con qualche iscrittino Ma magari qualche bel commento Come si faceva una volta Da quando sono ricominciato le scuole È stato un casino Ho perso tutta la mia visibilità Che già ne avevo poca Però se prima facevo 100 visualizzazioni a video Ma ne faccio 20 E diciamo che è un po' È un colpo Fa un po' tra virgolette male E intanto ho trovato l'oro Ok andiamo a cuocere il ferro Che abbiamo raccolto Così da poter fare un altro piccone Ok ho messo a cuocere il ferro Che ho raccolto Di qua non ho trovato niente dopo l'oro Io mi raccoglierei le torce Chiuderei baracca E continuerei a scendere un altro po' Spero che vi stia piacendo intanto il format del TG Scimia Che stiamo portando avanti ormai da 7 puntate Se non l'avete ancora visto magari ve lo lascio in descrizione Oppure nella schedina delle info in alto a destra Quello è il format che impiega più tempo a me e ai ragazzi del team di Space Monkeys Perché i ragazzi iniziano a ricercare le notizie dal lunedì O meglio appena escono sono subito sul pezzo E prendono quello che si può E il venerdì pomeriggio a me tocca Metterci la faccia come dico sempre E fare il video alla velocità della luce Perché devo montarlo Mettere tutte quante le scene Le cose varie È abbastanza complicato da fare Però il TG Scimia è uno dei format che a me piace di più E soprattutto mi diverte E sta per ricominciare un altro round di scavi Alla ricerca di un pezzo di redstone Non ho fatto il piccone In più volevo anche avvisarvi Per chi mi segue un poco più attentamente Che tra poco ci sarà la mia stanza da gaming 2.0 Sicuramente non lo chiamerò di nuovo la mia stanza da gaming Perché quella era un video fatto scemo in maniera scema Che ve lo lascio in descrizione Però ci sarà diciamo l'aggiornamento Il video aggiornamento della mia stanza Sono aggiunti fumetti Sono aggiunta action figures Si è aggiunta tanta roba abbastanza tosta E tanta roba abbastanza carina E a breve Quando il mio amico con la telecamera buona Si farà vivo Registerò anche questo video Sto cercando di fare il meglio Per questo canale Anche se giocare a minecraft Non credo sia il meglio Per un canale Però io mi si rilasso Ci passo un'oretta E in più Chiacchiero con voi Questo video più che una gite miniera È un vlog dove io scavo da Penso almeno da 40 minuti sto scavando Per cercare un pezzo di redstone Che non c'è Vabbè Torniamoci a una casa Momentaneamente mi arrendo Sacrificherò la mia unica bussola Quella che ho per tornare poi Alla vecchia casa Per fare la mappa E quando avrò la mappa Tornerò qui sotto Logicamente non vi faccio rivedere Me che scavo Ci vediamo direttamente tra poco Quando la miniera sarà finita Quindi qua Tappiamo E iniziamo la nostra risalita Lunghissima Ok Andiamo a prendere la nostra bussola Che è là sopra E andiamo a craftare La nostra bellissima mappa Però prima devo andare a prendere Le cani da zucchero Che sono di là Ok Ne ho presi un po' tante Però mi servono per fare i fogli E poi magari li utilizzerò anche Per fare una farm Quindi 9 fogli di carta La nostra amica bussola Che ho preso 8 fogli di carta E abbiamo la mappa vuota Facendo così Boom Diventa una mappa piena Siamo in un angolo di mappa Non siamo manco al centro Che tristezza Ok Abbiamo Diciamo tra virgolette Completato il nostro progetto Meglio la bozza Di quello che è il nostro progetto Intanto qua Ho versato un secchio d'acqua Poi ne verserò un altro Qua In modo tale da fare una pozza di acqua infinita E intanto vi faccio vedere Quello che abbiamo combinato Tra virgolette insieme Qua c'è solo una scala Perché non mi è bastato il legno Poi quando avrò più legno Farò tre rampe di scala Momentaneamente ci buttiamo di sotto Ed ecco qua Quello che abbiamo costruito Ho lasciato un po' di materiale in vista Li prenderò dopo Ho voluto usare i picconi Solo esclusivamente Per scavare E qua c'è della lava Qua dietro Quindi poi sarà Il mio compito Giostrare al meglio questa lava Per non fare danno E completare i miei tunnel Sono 11 tunnel A lato Quindi 44 tunnel Che espandendosi In linea retta Mi faranno coprire Penso tutta L'aria Sottostante La mia casa Sono a livello Mi pare 11 Sono sceso all'11 Ho sceso di più Sono a livello 11 E infatti c'è la lava E infatti qua C'era qualche bel diamantino Qua ho lasciato aperto Il pro memoria Non vorrei che tipo Domani che venga A ultimare il lavoro Apro qua Viene la lava E sono morto Quindi ragazzi Mettiamoci in un punto Dove possiamo saltare Ok Io qui vi saluto Spero che questo video Da virgolette Chiacchierata Vi sia piaciuto Noi ci vediamo In un prossimo video E patata a tutti Oh Ti ho dato una patata Iscriviti